Buonasera, ben arrivati a Siamo Italiani. Lo vedete sopra la mia testa, gli italiani non vogliono lavorare la domenica, fanno nulloni, sono più di 4 milioni i lavoratori impiegati la domenica, visto che i consumatori vogliono trovare i negozi aperti nei festivi, soprattutto adesso a ridosso del Natale. Alcuni però si domandano se sia giusto lavorare quando tutti gli altri si riposano e questo anche se la disoccupazione continua a spaventare, molti imprenditori denunciano, non troviamo gli operai che ci servono. Ne parliamo questa sera con il senatore della Lega Nord, Enunziante Consiglio, buonasera. Buonasera a tutti. Ben arrivato, con Pietro Bussolati del Partito Democratico, buonasera. E collegato da Roma, Mirko Rota della FIOM CGL. Buonasera Mirko. Buonasera, buonasera a voi. Allora, un centro commerciale della Bergamasca, due su tre qui sono da quelle parti lì, vuole tenere aperto anche la domenica. Modernità o sfruttamento? Come si chiede l'Espresso in questo articolo. Cosa ne pensate, Rota? Modernità o sfruttamento? Dal mio punto di vista è più sfruttamento, non perché io non sia d'accordo con il lavoro domenicale. Ci sono molti ambiti dove si lavora la domenica, però vorrei che chi lavora la domenica abbia uno stipendio più alto, abbia dei riposi compensativi durante la settimana, abbia degli spazi e delle condizioni che premino, diciamo così, il suo impegno maggiore rispetto al lavoratore che magari ha la fortuna di lavorare semplicemente dal lunedì al venerdì. Se uno invece dovesse frequentare quell'ambito che voi avete citato, trovereste sicuramente molti giovani che hanno dei contratti precari, hanno retribuzioni molto ridotte rispetto alla generalità degli altri lavoratori e non hanno nemmeno i riposi compensativi. Per me basta fare un'indagine. Quella lavoratrice o quel lavoratore che durante il mese di dicembre su 31 giorni lavora 28 giorni e sta a casa solamente tre giornate, perché questa è la condizione, non è una condizione di modernità ma è semplicemente di sfruttamento. Allora, vediamo un po' di numeri, in quanti e per quanto lavorano la domenica. Sono 4.200.000 gli italiani che lavorano la domenica, 4.200.000, scusate, i posti di lavoro attivi nei festivi, 400 milioni di euro i soldi di più in busta paga. Vediamo anche dove si lavora di più nei giorni di festa, negli alberghi e nei ristoranti. Sono impegnati nei giorni di festa, lo sottolineo, 688.000 lavoratori. Nell'amministrazione pubblica, 686.000, nel commercio e nei centri commerciali, 579.000, nell'industria, 329.000, trasporto, 215.000, agricoltura, 72.000, informazione, 52.000, costruzioni, 22.000 e attività finanziarie, 9.000. Avete visto? Cosa ne pensate, senatore? Ma la lista che abbiamo visto adesso, quella slide, è un po' però da analizzare bene, nel senso che ci sono dei lavori che ovviamente comportano un lavoro proprio la domenica, normale, perché se si parla di alberghi, se si parla di turismo, eccetera, è normale. Se invece dovessimo ragionare in termini di centro commerciale, diventa estremamente diverso il discorso, perché il fatto di essere moderni o non moderni, secondo me, ci azzecca un po' poco. Ma lei sta dalla parte di chi pretende un negozio aperto la domenica, o dalla parte dei lavoratori che vorrebbero stare a casa con le famiglie? No, io sto dalla parte della serietà nelle cose, cioè se una famiglia ha un budget di 500 euro da spendere, non è che ne diventano 1000 perché tu vai a fare la spesa la domenica. Allora, il ragionamento è invece almeno, allora io ho fatto una proposta di legge tra l'altro che prevede la chiusura dei centri commerciali, almeno nelle feste anche religiose più importanti, insomma quelle 4-5 all'anno, questo per dare l'idea che potenzialmente c'è una volontà di andare a fare la spesa tutte le ore del giorno, quando invece si potrebbero, e tutti i giorni della settimana, quando probabilmente si potrebbero concentrare le cose in alcune ore. Poi ha detto bene Rota, stranamente sono d'accordo con lui, ciao Rota, sul fatto che c'è una voglia anche di mettere in condizione questi ragazzi di un po' prima con i voucher, adesso con dei contratti un po' strani, di non sistemarli mai, di sfruttare solamente durante il fine settimana, durante le feste natalizie, insomma. Poi che ci siano degli stipendi più alti sarebbe auspicabile, ma così probabilmente non è, anzi utilizzano questi ragazzi che soprattutto magari vanno all'università, piuttosto che altre questioni possono lavorare sabato e domenica. Bussolati, lei come la vede? Non mi dica che sta anche lei dalla parte di questi sfruttati la domenica. Ma questo dalla parte della scelta dei lavoratori, perché non è che tutti i lavoratori poi sono sfruttati nel momento in cui lavorano la domenica, bisogna far sì che ci sia uno standard minimo che sia un accesso di contratto nazionale che sia difensivo per i diritti dei lavoratori, poi dopodiché ricordiamoci anche che stiamo parlando quasi solo, come diceva anche il senatore, stiamo parlando quasi solo del settore del commercio, perché il settore del commercio ahimè è minacciato non tanto dalle chiusure la domenica o da altro, ma dalle acquisti online che ormai stanno diventando determinanti e quindi credo che i commercianti cerchino di trovare nuovi orari, non perché le famiglie hanno una disponibilità economica che cambia in base a quanto rimane aperto un negozio, un centro commerciale, ma per cercare di riuscire a essere competitivi nei confronti del commercio online, quindi io credo che si stia affrontando una questione importante, cioè quella della dignità e i diritti dei lavoratori che devono anche poter scegliere, sapendo che poi ci sono una categoria di lavoratori che non sceglie mai di smettere di lavorare, che sono le partite IVA, ce le dimentichiamo un po' sempre, gli autonomi che sono a casa, che lavorano la domenica, la notte, eccetera, ce li dimentichiamo sempre e anche loro andrebbero tutelati in qualche forma. Ma comunque quando uno va a lavorare in un centro commerciale sa benissimo che deve mettere in conto le domeniche, i festivi, perché ormai sono anni che si lavora in quei giorni lì, e chi gli dà lavoro deve avere anche la possibilità di tenere aperta la notte. Io sono d'accordo sul fatto che a Natale ci siano delle feste, si è parlato di 4-5 giorni, io su quello sono d'accordo, c'è anche il bisogno di una città, di un paese di riposare, cioè avere dei momenti di stacco collettivo in cui ci si ferma tutti, secondo me è un elemento importante che fa parte anche della nostra tradizione, della nostra storia, quello credo di sì. Però il fatto che si possa partecipare a dei turni nel momento in cui, se si è sfruttato ovviamente non va bene, nel momento in cui ci sono delle regole, delle leggi anche da modificare, che tutelano il lavoratore, io credo che sia un'opportunità anche per i lavoratori in alcuni casi. Consiglio, ma una volta non stavate dalla parte degli imprenditori, di quelli che davano lavoro? Questi sono degli imprenditori, questi dei centri commerciali, fanno degli investimenti della Madonna? Guardi, noi siamo stati della parte anche dei piccoli negozianti, perché poi mettere in condizione un centro commerciale di stare aperto il sabato o la domenica, magari fino a mezzanotte, 10, fino a mezzanotte è un conto. E magari qualche negozietto dei centri storici che hanno la possibilità di stare in piedi solo perché lo fanno a livello familiare diventa estremamente complicato, per cui anche qui la capacità di un centro commerciale di ragionare in certi termini e quello di un piccolo negozietto mette in difficoltà il piccolo negozio. Quindi stare dalla parte di chi? Del commerciante, per l'amor di Dio, di chi ci lavora? Insomma, lì c'è probabilmente una sorta di via di mezzo che potrebbe accontentare un po' tutti. Poi il soggetto più complicato da accontentare è chiaramente il consumatore, che ha 10 euro da spendere e li vuole spendere quando dice lui, insomma. Allora, Rota, alla fine siete tutti d'accordo, anche con Di Maio, che ha detto negozi chiusi durante le feste, così le famiglie saranno più felici e vediamo Di Maio appunto e con il Papa che ha detto la domenica al lavoro ci fa vivere da schiavi, riposo necessario. Vediamo cosa succede negli altri paesi d'Europa, chi lavora la domenica. In Svezia il 47% dei lavoratori è occupato la domenica, in Danimarca il 45%, in Gran Bretagna il 38%, nei paesi bassi il 35%, in Spagna il 32%, in Francia il 28%, in Italia il 24%, sotto solo la Germania con il 22% e una media europea, alla quale sta sotto anche l'Italia, del 28,30%. Non è proprio il paese dove si lavora di più nei giorni di festa questo, no? No, quello no, però dipende come si lavora la domenica. Ripeto, io non sono contrario al lavoro domenicale, ma penso che il lavoratore che offre la sua prestazione di domenica deve avere una condizione migliore rispetto al lavoratore che lavora semplicemente dal lunedì al venerdì. Oggi non è così oggi, perché quando i centri commerciali tengono aperto per 52 domeniche l'anno hanno dei costi aggiuntivi per quanto riguarda la loro struttura e questi costi aggiuntivi in parte li scaricano sulla condizione dei lavoratori. Che cosa significa? O ti obbligano a lavorare la domenica, non che te lo chiedano, ti obbligano, oppure se tu non lavori la domenica la tua figura viene sostituita dai lavoratori precari. Se uno frequenta l'Orio Center, l'avete citato voi questo caso, è uno dei centri commerciali più grandi della Lombardia, forse anche del nostro paese, e dovesse intervistare le lavoratrici di tutti quei negozi che stanno in galleria, non troverebbe quasi nessuno con un contratto di lavoro stabile, a tempo indeterminato, con l'applicazione di un contratto collettivo nazionale, ma si determinano situazioni di sfruttamento. Allora io non sono per far chiudere, sono per far lavorare oggi i lavoratori dentro una condizione accettabile e per fare questo servirebbero delle leggi, della legislazione che questa politica negli ultimi anni ha distrutto. Si sta discutendo il Parlamento dei contratti a termine, faccio questo esempio. Se ridurre dai 36 mesi ai 24 mesi la durata del contratto a termine. Ma se io faccio il commesso, per quale motivo devo rimanere a termine 24 mesi? Per quale ragione? Se non per far risparmiare l'impresa, mettermi in una condizione di ricatto, lasciarmi a casa dopo 24 mesi per prendere un'altra persona. Allora io do la mia prestazione nel lavoro notturno domenicale, ma devo avere una condizione di tutela migliore rispetto agli altri lavoratori. Altrimenti sono cornuto e mazziato. Quindi avrebbe fatto questo governo gli interessi dei grossi imprenditori? Ma per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori, ci sono oggi 40 forme di assunzioni. C'è una precarietà ormai dilagante. Un imprenditore può decidere di tenere una persona 36 mesi, lasciarla a casa e prenderne un'altra, più liberi di così. Ormai hanno dato alle imprese la possibilità di decidere come assumere i lavoratori e hanno dato alle imprese la possibilità di licenziare liberamente i lavoratori. Più vantaggi di così alle imprese non li posso vedere da questo punto di vista. Bussolati. Si può sempre discutere di tutto. Ma sulle riforme di questi anni del governo, posto che tutto si può ovviamente migliorare, lo diceva anche Rota perché proprio per questo stava ragionando sulle modifiche che si possono portare, però le riforme di questi anni sono andate in una direzione diversa a mio avviso, nel senso che hanno ridotto le modalità di assunzione rispetto al passato. Ancora sono molteplici ma sono ridotte rispetto al passato e quello che lui indica come una non comprensione del perché si va in un contratto tutte le crescenti, quindi che col passare dei mesi dà un maggiori diritti, maggiore dignità al lavoratore fino ad arrivare a una forma a tempo indeterminato, è la modalità che utilizzano gran parte dei paesi europei per avviare verso il lavoro sicuro le persone ed evitare che ci siano lavoratori di serie A e serie B. Senatore, va bene questa riforma che hanno fatto? Guardi, noi abbiamo assistito in questi anni a una serie di modifiche al mondo del lavoro che non sempre hanno portato risultati positivi, io mi ricordo bene la questione dei voucher, ricordo il job act, ricordo una serie di questioni che hanno visto la Lega sempre sugli scudi sotto l'aspetto proprio dell'incapacità di rappresentare un po' il mondo del lavoro in modo serio. Il fatto che ci siano 40 modi di assumere forse ci si è spinti pensando di poter variegare talmente tanto l'offerta dei contratti da migliorare un po' il lavoro, forse così non è, io credo invece che ci sia bisogno di una soluzione, perché dopo il problema non è solamente del dipendente che lavora, ma è anche dell'imprenditore, insomma fare impresa oggi e mettere in piedi un negozio piuttosto che un'attività commerciale non è la cosa più semplice del mondo, quindi anche l'imprenditore si deve un po' rabattare, a meno che tu non sia una grande multinazionale che ragiona in termini completamente diversi, soprattutto se poi la multinazionale è straniera. Fussolati e poi torno da Rota. La Lega ha veramente dimenticato il Nord, non solo ha tolto la parola Nord, ma ormai sta dimenticando il Nord. In Lombardia ci sono un'impresa ogni 10 abitanti, cioè ci sono 950 mila imprese, io credo che le imprese, le piccole e medie imprese, non le grandi imprese, ma le piccole e medie imprese siano interessate ad avere quel minimo di flessibilità, compresi anche i voucher che danno la possibilità di evitare il lavoro nero e di dare degli strumenti che ovviamente non devono essere tutti uguali, perché una persona di 30 anni, di 40 anni, deve essere avviata a un lavoro sereno, a tempo indeterminato, come prevede il Jobs Act, e altre invece situazioni devono essere affrontate con altri strumenti. Prota? No, io non... Si sfugge dalla questione centrale, cioè io non capisco perché un qualsiasi imprenditore, anche di medie e grandi dimensioni, possa tenere una lavoratrice o un lavoratore con un contratto a termine di 36 mesi, stiamo parlando di 3 anni, senza causale, senza motivazione. Prima si diceva perché quell'azienda è un'azienda stagionale, sì, però se è una stagione, la stagione in genere dura 3, 4, 5, 6 mesi, c'è una commessa può durare 6, 7 mesi. Oggi le imprese hanno, grazie alla legislazione che è stata fatta in questi anni, la possibilità di assumere i lavoratori a termine, per un massimo di 36 mesi, senza indicare la ragione, possono lasciarli a casa e prendere in loro sostituzione altri lavoratori. Io questa condizione la chiamo sfruttamento, a favore dei guadagni delle imprese. Prota. E penso che un partito di sinistra debba stravolgere questa legislazione, non correggerla portando da 36 mesi a 24 mesi. Ti vorrei dire però che ci sono delle penalità forti nei confronti dell'impresa che crescono al passare dei mesi e nessun imprenditore è talmente stupido da buttare via i soldi dopo aver formato una persona per 36 mesi. Stiamo parlando di un'altra cosa, Bussolati. Stiamo parlando dei contratti a termine. Non stiamo parlando delle tutele crescenti. Benissimo. Oggi un imprenditore può assumere un lavoratore per 36 mesi. Ma tu stai proponendo di mettere i contratti a tempo indeterminato come unica forma di assunzione, perché questo non avviene in nessun paese europeo. No, assolutamente no. Benissimo. Assolutamente no. Di cosa stai parlando? Assolutamente no, perché io penso che le imprese abbiano delle ragioni di produzione. Però se uno vuole assumere un contratto a termine deve rispondere a delle motivazioni, a delle esigenze. Non può essere lasciato alla libertà dell'imprenditore. Prima c'era una legislazione che diceva c'è la causale, l'imprenditore deve rispondere a una causale. La legge ha cancellato la causale. Oggi l'imprenditore non deve dire perché, anziché assumere il contratto a tempo indeterminato, assume uno a termine. Penso che sia una condizione di sfruttamento. Sicuramente si può migliorare, si sta facendo una riflessione. Però è normale che ci sia un certo grado di flessibilità, perché rende possibile il fatto di essere competitivi e di fare produzione, che è l'obiettivo. Se abbiamo solo in Lombardia 900 mila imprese, è evidente che il tessuto delle piccole e medie imprese sono piccole imprese che non riescono a fare una programmazione su più anni. E quindi ci deve essere un equilibrio tra le due. Senatore, si segnava una cosa, se me la vuole dire ora, rapido? Abbiamo dimenticato talmente tanto il Nord che ci siamo mossi per primi sulla questione della Fred Taxi, ci siamo mossi per primi sulla questione della Bolkenstein, ci siamo mossi per primi su tante questioni che dovevano mettere in condizione, e devono mettere in condizione, proprio la spina dorsale di questo Paese, che sono le piccole e medie imprese, e soprattutto quelle manifatturiere, di stare in piedi. Torniamo a parlarne subito dopo un attimo di pubblicità resta in piedi. Grazie. Sempre con il senatore enunziante consiglio della Lega Nord, con Pietro Bussolati del Partito Democratico, e con Mirko Rota della FIOM CGL. Allora, parliamo degli imprenditori che cercano operai che non ci sono. Il mondo è cambiato, l'abbiamo ricordato prima, Amazon, i siti di e-commerce sono aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Lo shopping online cresce a ritmi vertiginosi, più 28% a 12,2 miliardi nel 2017, vale il 5%, quasi 6, 5-7% della spesa degli italiani e non si ferma mai. La domenica è il giorno più ricco della settimana per i centri commerciali veri e propri che per quelli online, ma per il piccolo, allora, vediamo il cartello 4, c'è chi soffre più 20% delle vendite, più 9 miliardi di euro di fatturato, il risultato di outlet e i permercati, tenendo aperto la domenica. Meno 7 miliardi di vendite, meno 3% nel giro di affari e 96 mila negozi costretti a chiudere, la sofferenza della piccola distribuzione dopo la deregolamentazione negli orari di apertura. Al piccolo imprenditore restano i problemi di sempre, compreso quello di trovare forza necessaria per i suoi affari. E non è facile, anche se sembra un paradosso, visto che arriviamo da un periodo di forte crisi occupazionale, 4 giovani su 10 sotto i 30 anni dichiarano di essere senza lavoro. Tempo fa un imprenditore milanese, abbiamo visto prima, attivo nel ramo dell'alimentazione, cercava gente, giovani soprattutto, con la voglia di fare sacrifici. Vedete, cerco baristi e panettieri, ma non li trovo. L'offerta dell'imprenditore a Milano, 1400 euro per otto ore, va a vuoto da mesi. I panettieri, si sa, si devono alzare prestissimo il mattino e anche lì non esistono né sabati né domeniche. Quindi niente da fare. Quelli che vogliono sacrificarsi non si trovano. Ecco, Rota, di fronte a storie come queste, scusate la lunga introduzione, come fa a difendere a spada tratta chi cerca lavoro? Come si fa a prendersela sempre e solo col governo, con l'Europa e con le banche, se c'è gente che non ha voglia di fare niente? Ma, faccio una battuta, a me sembra questa una notizia, una fake, come dice il PD. Ma non è vero, ma si fermi una, scusi. Fasulla. No, io racconto, io racconto sempre di artigiani che non trovano gente per, li vogliono assumere, li pagano bene, è una mentalità anche sbagliata, no? E voi la incoraggiate. Io ne trovo un sacco che cercano. Però, come, 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 il problema è se si trova d'accordo la domanda con l'offerta, perché se l'artigiano chiede e cerca l'operaio specializzato, disponibile, che sappia fare un sacco di lavori, e poi quando lo vuole assumere gli dice che la retribuzione è di 1000 euro al mese, probabilmente fa fatica a trovare, diciamo così, un lavoratore disponibile a trovare i lavoratori. Significa mettersi in condizione di fare un'offerta che rispetto alla professionalità che si cerca, si offre anche una condizione retributiva adeguata. Ma gli artigiani scusi un attimo, che deve assumere uno, primo, A, c'ha bisogno, B, gli fa il contratto regolare, e C, ci deve buttare anche un sacco di ore e insegnare il lavoro a uno, visto che la scuola non è che... Allora, diciamo che il panettiere, come esempio, è uno dei mestieri un po' particolari, per cui forse non calza pennello su una marea di casistica. Sì, ma se devi andare a mangiare a una famiglia... Il problema è questo, è che quando tu hai bisogno fai qualsiasi cosa. Il problema è che probabilmente non abbiamo ancora, come si suol dire, sbattuto il muso per terra. Oh, eccola qua. Questo è il problema, perché se ti do 1.400 euro al mese e ti do la possibilità di fare un mestiere che è nobilissimo e puoi mantenere una famiglia, è chiaro che diventa un problema se io dopo mesi non ho ancora trovato nessuno. Poi magari ci metti dentro qualche ragazzo che non è proprio italiano e la cosa va a finire male, nel senso... Ci mancavano gli immigrati. No, perché poi sei costretto... Scusami, Annunziante, però... Sei costretto a fare questo, nel senso che qualcuno lo trova e poi dico, ecco, ci ho portato via lavoro. Fare il panettiere è un mestiere nobilissimo. No, no, ma io proprio la sto... Però, Annunziante... Invece, come si dice, sto imbiancando un po' i sepolcri, eh. Allora, che ha... Però, Annunziante, come dicevi tu, il panettiere è un mestiere nobilissimo, ma tu a tuo figlio, dopo le scuole dell'obbligo, gli diresti di andare a fare il panettiere per tutta la vita, guadagnare i 1.400 euro... Posso farti una domanda rota? Oggi diresti che è meglio continuare a studiare e magari fare l'ingegneria? Allora, qui noi continuiamo a mandare tutti questi ragazzi che magari non sono portati per il liceo, per ingegneria, per eccetera, eccetera, a fare le scuole di... come si chiama? L'alberghiera, ok? Allora, facciamo l'alberghiera, escono 100 ragazzi, 50 non vogliono lavorare di sera e quindi non vanno negli alberi. Gli altri 30 non vogliono fare i baristi perché? Gli altri non vogliono fare il pane, gli altri non vogliono lavorare in pesticiria la domenica, allora chiudiamo ste benedette scuole, chiudiamole. Allora, se io invece dico che fare il pane per un ragazzo che ha 30 anni, che ha famiglia, vuole mettere su famiglia, è un lavoro nobilissimo, mi sembra di aver detto una cosa bruttissima, bussolati, dopo ci lamentiamo che c'è il suono che dice che non è l'abito, che arriva non so da dove e viene venduto e viene venduto ai supermercati. È inutile buttare la croce addosso ai lavoratori, invece il problema è che manca completamente la formazione tecnica o quando c'è è ristretto. Sì, però se fai l'alternanza scuola-lavoro scendono a lamentarsi. Ma intanto l'abbiamo fatta, quindi l'ha fatta lo stesso. Si lamentano i ragazzi. Si lamenta anche la Lega nonostante lo stesso, però comunque noi la facciamo lo stesso. L'alternanza scuola-lavoro, la formazione tecnica. Noi dobbiamo seguire un po' il modello tedesco dove ci sono molte più scuole tecniche e dove fare una scuola tecnica è qualificante. Tu hai parlato della panetteria che è un lavoro faticoso. Il settore moda in Italia lamenta l'assenza di 50.000 professionisti sulla moda. Allora anche lì c'è un problema perché poi le grandi scuole di moda, le grandi scuole di formazione che vuol dire anche filatura, tessitura, tanti lavori che sono di manufatturiero, non è che c'è solo lo stilista, 50.000, solo in Lombardia è un terzo, sarebbero 20.000, la scuola, la reta della scuola di moda che costa meno costa 20.000 euro l'anno. Allora non c'è una scuola pubblica, non c'è una formazione anche pubblico-privata che vada in quella direzione e allora è anche la politica, anche le istituzioni che devono farsi carico del fatto che si deve avvicinare la domanda all'offerta con l'alternanza scuola-lavoro e facendo una mappatura dei bisogni delle imprese e facendo una formazione che faccia sì che le persone poi trovino un lavoro. Io credo che troveremmo tanti che invece hanno voglia di fare il panettiere, hanno voglia di fare la filatura, hanno voglia di fare tutti quei mestieri artigiani. Consiglio in conclusione, ho semplicemente sulla questione dei panettiere che mi ha lasciato un po' così, allora o pensano questi ragazzi che hanno bisogno di diventare tutti cracco e fare Masterchef o se no bisognerà che si mettano il cuore in pace e imparare un mestiere che ripeto, è un mestiere novinissimo, molto scomodo magari come orari, ma che ci permette magari di mangiare dell'ottimo pane di cui questo paese è grandissimo produttore e non far arrivare il pane congelato dall'estero. Rota! Che va a cracker, date le dimensioni contenute. No, è un discorso molto retorico. Il problema non è stabilire se un lavoro è dignitoso oppure no, tutti i lavori sono dignitosi. Il punto è che oggi i giovani non sono attratti da alcuni mestieri, ovviamente perché sono poco retribuiti, sono un mestiere molto impegnativi, di grande sacrificio e ovviamente la società ha costruito diciamo così anche dei modelli sociali dove se tu oggi dici che fai l'operaio, fai il panettiero ovviamente vieni descritto come una persona diciamo così poco inclina ai modelli sociali. Qui c'è proprio un ridisegno del mondo del lavoro che è stato distrutto dalla legislazione di questi ultimi anni. Va bene, io ringrazio Mirco Rotta della FIOMCGL in collegamento da Roma, non è che la troviamo tra i banchi del Parlamento, candidato da qualche parte, no? La troviamo candidata, visto che sta sempre a Roma. No, assolutamente. Non è che vai a imparare la strada e poi sta lì. No, sto a Roma perché seguo le aziende da Roma, non per altri motivi. Ma non c'è una panetteria alla Camera, nemmeno al Senato perché magari se c'era posto lì vedi che c'era pieno di domande. Eh, infatti. Grazie allora a Mirco Rotta della FIOMCGL Pietro Bussolati del Partito Democratico. Lei si candida, non si candida? Troppo presto per chiederglielo? È troppo presto per chiederlo. No, mi candideremo probabilmente in Regione, ma a gennaio facciamo le liste. Eh, bene, bene. E' in un siante consiglio senatore della Lega Nord che penso che tornerà a Roma, no? O a Berro? Ma ci torno avrei voglia di fare il giro di tutti i musei che non ho avuto la possibilità di fare in questi dieci anni ma che penso di tornare a fare il sindaco. Ma scusi, non sta al Senato lei? Più museo di quello? Ci sono dietro di quelle... No, ma si è un po' svecchiato negli ultimi anni. Si è svecchiato, va bene. Noi torniamo dopo la pubblicità con Maurizio Belpietro parleremo anche del suo ultimo libro Islamofollia ma sarà interessante anche perché Belpietro ricorderete per il titolo Bastardi Islamici è stato assolto. Ne parliamo tra poco. Grazie a tutti.